In attesa che il mercato entri nel vivo ed arrivino i primi colpi, tra conferme e volti nuovi, il Cosenza ha stabilito il programma del proprio ritiro precampionato. I Rosso-Blu di mister Piero Braglia si raduneranno in città il prossimo 16 luglio. Nei giorni successivi si svolgerà la fase di pre-ritiro dedicata ai test atletici e alle visite mediche. Venerdì 19 luglio è previsto quindi il trasferimento a San Giovanni in Fiore, dove la squadra, che alloggerà presso l'hotel Duchessa della Sila, sosterrà a partire dal pomeriggio la preparazione atletica per il prossimo campionato di Serie B sul prato della Valentino Mazzola. Il termine del ritiro è previsto per il 3 agosto. Già calendarizzati i tre test congiunti che si svolgeranno durante il ritiro. Venerdì 26 luglio con la Morrone fresca di promozione in eccellenza. Martedì 30 luglio con il Monopoli pronto ad un nuovo campionato di Lega Pro. Sabato 3 agosto infine con il Corigliano ai nastri di partenza da neopromosso della prossimo campionato di Serie D. Martedì 30 luglio. Grazie a tutti